Quel giorno faceva caldo. Molto caldo. Non ne potevo più. Mi serviva proprio un climatizzatore. Lo sapete quanti installatori potreste trovare sul mercato? Nessuno di loro è come un installatore Mitsubishi Electric. Un professionista che con la sua attenzione per il cliente e la conoscenza dei prodotti ha trovato subito la soluzione più adatta a me. In poco tempo ha installato il climatizzatore e quando se n'è andato ha lasciato casa pulita e in ordine come l'aveva trovata. Ora è tutta un'altra storia. Contatta un installatore Mitsubishi Electric. È la miglior soluzione per ogni stagione. Mitsubishi Electric. Changes for the better. Cerca l'installatore più vicino a te su installatori.mitsubishielectric.it www.motiontech.it E per l'installatore più vicino a te su il содерж of classe